come memorizzare la data delle gira le gira è la fuga di maometto dalla mecca ed è molto importante perché i musulmani decidono di indicare l'anno zero da questo avvenimento il nostro calendario il calendario cristiano e rispetto a quello musulmano per ricordare questa data basta ricordare il 2 per quale motivo 2 per 3 uguale 6 poi si ripete per due volte il 2 2 2 la data è 622 dopo cristo ciao al prossimo video vi aspetto ciao 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 ciao